La Liguria torna a tremare per la nuova ondata di maltempo che minaccia il centro nord Italia con piogge battenti sulla costa e addirittura neve nell'entroterra di Genova e Savona oltre i 700 metri di quota. Resta alto il pericolo di frane smottamenti ma a preoccupare soprattutto il livello dei fiumi e torrenti rapidamente ingrossati. A Genova viene costantemente monitorato il rio Fereggiano che il 4 novembre 2011 esondò provocando la morte di sei persone tra cui due bambine. Piccoli allagamenti di strade scantinati si sono registrati in varie zone della città ma per ora la situazione è ritenuta sotto controllo. A Imperia un pino secolare caduto in Piazza della Vittoria fortunatamente senza causare feriti. La protezione civile ha emanato un avviso su tutto il territorio Ligure per forti piogge temporali e mareggiate. Sui versanti padani delle province di Genova e Savona inoltre sono previste altre nevicate al di sopra dei 500 metri.